Psicanalista, scrittore, saggista, Massimo Recalcati, al chiodo fisso della formazione e dell'educazione dei giovani calata in un contesto dinamico, liquido e complesso come quello attuale e del ruolo fondamentale rivestito dalla scuola, tema che affronterà mercoledì 3 ottobre alle 21 nel Cinema Castellani di Azzate, uno degli eventi di punta targati Premio Chiara. Bambi che è il direttore artistico e dell'anima degli amici di Piero Chiara ci racconta alcune dell'iniziativa a cui tieni particolarmente cominciando da quella di Recalcati. Certo, Massimo Recalcati, la scuola. In questo momento particolare per la scuola, per i docenti, per i genitori, magari per gli alunni, mi è sembrato bello poter affrontare questo argomento con una persona specifica che farà un Alexio Magistralis proprio sulla scuola. Mercoledì 3 ottobre al Cinema Castellani. Sono, diciamo, soddisfatta anche di tutto il lavoro che stiamo facendo, cioè le scuole si prenotano. Possiamo avere per cui una situazione ottimale perché il Cinema Castellani ha una capienza di un 350, però dando la possibilità di avere per le scuole un 20 posti, un 30 posti e sono diverse le scuole anche da fuori che si sono prenotate. È un discorso di un'ora, di un'ora e un quarto. Mi piace molto, io l'ho sentito per le trasmissioni che ha fatto nel lessico familiare, quando ha parlato del padre, la madre. E sono delle cose che uno esce e ha capito. Questo è bello. Cioè capire quando hai un relatore che ti riesce a far capire delle cose. È fondamentale, cioè la radice della cultura sta tutta lì. Ripetiamo bene l'appuntamento? Sì. Allora, mercoledì 3 ottobre, ore 21, bisogna essere lì almeno per le 8 e 20. Ecco, perché poi ore 21, massimo ore 21 e 10, lui inizia. Ed è una cosa che fa solo lui. Ed è una cosa che fa solo.